Quanti di noi hanno cavi conciati così, ora sembra morso da un piragna, allora si rompono un po' no, vengono fuori tutti i fili le cose, no e allora come si fa per evitare che smettano di funzionare? Bisogna rinforzarli, un bel trucco per rinforzarli arriva da questa, c'è dentro sempre la mollina nella cosa, la molla la metto qui che c'è più contrasto, prendiamo un cavo invece buono, eccolo qua, e sostanzialmente si prende la molla, Ora io ci provo, e lo mettiamo sul cavo buono, ora ce la posso fare ragazzi, vedi e giro, e giro, ecco qua, zira, 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 ormai l'abbiamo perso, e vabbè mi viene così, è diventato anche imitatore, vedete qua dov'è, qua, qua così, vedete gli da, adesso si può fare meglio e non vi si sfilaccia, però lo potremmo fare anche sul cavo usurato per salvarlo, possiamo farlo sul cavo usurato, vuoi che te lo faccia adesso? No!